Una volta che io ho compilato la mia prima digitazione, ciò va adesso un po' di tempo, ma la volta successiva io trovo tutti i dati già caricati, quindi andrò solo per differenza, andrò solo probabilmente a cambiare il mio obiettivo dell'apertura, o andrò a cambiare i pezzi, va a raggiungere giusto qualche strumento, però sostanzialmente il lavoro più pesante è solo la prima volta. Tutte le altre volte che farò delle dichiarazioni, partirò sempre dall'ultima dichiarazione che ho fatto, e qui troverò già tutti i dati del regalo. Quindi qui nella prima parte trovate i dati che hanno la struttura, alla licenza, con licea, quella che sia, con tutti i nomi del titolario, della nascita, i dati se è una società o della società, poi l'infinizione del potere di usura, perché così seppure la produzione dei fatti della comunicazione gli arrivano, e i dati sul proprietario, se non coincide con i titolari della struttura. Qui invece ci sono i servizi. Allora, come funziona? Voi trovate tante dentine chiuse. Lei si provvede, per selezionare la tipologia, clicca su aggiungi e vi compare, diciamo, la sezione relativa a quella di voce. Quindi in questo caso io ho cliccato con singola compagno, con aggiungi, e il sistema mi ha detto, bene, su singola compagno quante ne hai, quindi il numero, o il prezzo di bassa stagione, minimo e massimo, il prezzo di bassa stagione, minimo e massimo, oppure stagione unica, quindi se sono le prezzi differenziali, è tutto uno al secondo. E così via, quindi la sezione recettività, la sezione notabitativi, eccetera. Questo modulo è diverso, però, di tipologia. Quindi i B e B troverà un tipo di modulo, l'articata camera è anche per un altro, il campeggio che troverà un altro, la varietà così via, cioè, notabitendite chiaramente nei campi degli alberghi, noi troviamo i B e quindi ognuno troverà esclusivamente i campi di propria ripartenza, quindi non c'è il rischio di perdersi tra gli alberghi. Al termine, quindi, abbiamo detto, si salga la bozza e si lascia così solo che dice, si genera la bozza, poi si invia quella promozione. Dopo che quella promozione era validato, potete scaricare il PDF generato e quindi uno osservare gli atti e potete scaricare il PDF generato per la differenza. Ecco la bozza che ci risponde. È tutto chiaro? Quindi abbiamo visto i più impassi, gli AMS, strettamente elevavano il CPS. No, solo per dire alcune cose rispetto a quello che Maria Assunta ha evidenziato. Intanto, l'importanza della pubblicazione della struttura sul portale regionale. Noi abbiamo una grande possibilità, tra l'altro in modo caduto, perché è una pagina pubblica, quindi non a pagamento, perché qualsiasi pagina voi andate, vedete i storebooking anziché ad altro, comunque c'è da sostenere dei costi. Per cui già questo basterebbe evitare il fatto di inserirsi all'interno di un circuito pubblico ufficiale. Tra l'altro, stiamo parlando di un portale negli ultimi anni, che frega intervissimo dall'utenza, dal fruitore, dal turista, anche perché, tutto sommato, dà una certa sicurezza il portale pubblico, il portale che viene alimentato dal pubblico, e quindi la gente si rivolge con una certa tranquillità, anche perché nella giura dei siti che ormai ci sono in giro, e questa è l'altra cosa che volevo evidenziare, che mi sembrava importante. L'altra cosa che volevo dire, non era più tecnica, quando parliamo di una reazione del periodo di apertura più solare, soprattutto nei B&B, dobbiamo stare accorti, perché nel B&B familiare, come sapete, il periodo di apertura non può superare i 270 giorni all'anno, per cui se noi consumiamo, tra virgolette, i 270 giorni fino a settembre, poi abbiamo degli ospiti a dicembre, evidentemente avremo dei problemi, non tanto nella trasmissione relativamente a scorto, quindi delle attività delle presenze, ma quanto perché andiamo contro l'elice, rispetto a quanto che è visto, quindi rispetto a quello dobbiamo stare un po' accorti. Un'altra cosa che volevo dire, su qualsiasi variazione noi si può fare durante l'anno qualsiasi tipo di variazione, forché quella che ha dei prezzi, ha dei valori, perché una volta che li abbiamo inseriti non li possiamo tenere di valori. Spesso arrivano delle richieste, c'era, volevo cambiare prezzo, mi sono reso conto che, ma è una cosa che non è possibile fare, per cui io quello che consiglio sempre alle operative, soprattutto a quelli di nuova apertura, che chiaramente entrando in un mercato che non conoscono hanno, come dire, anche difficoltà a stabilire dei prezzi, io consiglio sempre di tenerci all'interno di una fotrice piuttosto ampia, tra minimo e massimo in maniera da poter spaziare poi nei vari debili dell'anno. chiaramente la tariffa da applicare a novembre non può essere quella che viene applicata a ferragosto, non male, ma questo va a partire al mercato. Però, ecco, proprio per non cambiare questo tipo di incontro. Questo era, diciamo, rispetto proprio all'aspetto tecnico, perché queste sono domande che ci derivano dagli operatori, cioè noi nel corso di questi anni, ma riassunta, perché stimone, diciamo anche perché lei ha fatto un lavoro, diciamo, eccezionale rispetto alla parte informatica, noi siamo partiti dall'anno zero, noi avevamo, prendevamo le tabelle degli arrivi e le presenze cartacei, che poi dovevamo interpretarli, dovevamo correcci, dovevamo vedere che cosa c'era scritto, no? E quindi questo provocava anche verità, nella trasmissione, proprio nell'analisi dell'arrivo e presenze, che invece è fondamentale rispetto anche a una strategia che l'agenzia voglia di vedere in campo. Noi immaginiamo, che ne so, l'anno scorso di aver avuto più turisti tedeschi e quindi andiamo a incidere su quel mercato, quindi l'alleggiamo per l'arrivo e le presenze è fondamentale rispetto a tutta una serie di strategie che io mi sto accennando, ma che poi, magari il dottore Gerudo che sta più e più ad entrato nella materia potrà spiegare. L'ha dato al minuto. Quindi, dicevo, noi ci siamo creati una casistica eccezionale rispetto a tutta una serie di situazioni e negli ultimi tre anni abbiamo anche, come dire, soprattutto magari assoluta, anche su indicazione nostra e su pressione nostra e quindi che giornalmente magari, ecco, sottoponiamo una serie di casi che ci derivano delle strutture ricettive, devo dire che abbiamo migliorato il sistema. Insomma, oggi, a parte la prima, magari la prima fase, anche nel parlarne, io adesso risentendo dall'indesima volta quello che ci viene detto, mi rendo conto che forse è più difficile parlarne che non mettere in atto poi tutto ciò che ci riguarda, perché una volta che ci siamo avviati da un'istruttura, la comunicazione dei versi, la comunicazione delle presenze, alla fine diventa un'ambitudine. Tra l'altro, tanti anni fa, per esempio, le comunicazioni da centrale dell'istruttura si facevano in fronte a mezzanotte da consegnare in caserna. Noi immaginate cosa significava questo, no? Tra l'altro siamo arrivati a mezzanotte e il carabiniero non ti è arrivato e quindi tu stavi sempre con lo stupolo di non aver consegnato le carte. Come diceva Maria Assunta, la mancata comunicazione all'autorità di un'unica sicurezza deve avere le sanzioni di ordine penale, quindi che viene detto anche importante. Quindi noi riteniamo che per fatto dei passi da gigante in questo senso. Certo, poi la struttura che ha una camera devo dire, io devo fare comunicazione ogni giorno, devo andare, devo stare attento, questo è un altro discorso, ma credo, 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 questo è un pensiero tutto mio, diciamo. Probabilmente, se andremo avanti con questo discorso, forse andremo anche, come dire, a individuare un sistema che vada nella direzione dei più piccoli, e vi riferisco agli altri pagani, vi riferisco ai bed and breakfast, al piccolo credudismo, cioè a quelle strutture che non hanno, diciamo, un'organizzazione tale da poter consentire, poi anche la persona che si dedica solo a questo discorso. Ma questo è il pensiero, non so se sarà realizzato, vedremo nel corso del tempo, anche perché siamo in una fase di un attimo di stadio, un po' per tutto e per tutti. Questo, questo era un intanto intervento, scusate. Sì, sì, ma così, non solo notte, ma anche perché, soprattutto, che i operatori presenti diventa poi importate, anzi, se ci sono delle domande, possiamo vedere. Ok, quindi arriviamo al fatto di Aerospot. Quindi Aerospot è il sistema per la condizione. Perché Aerospot? Perché la regione aveva delle necessità. Innanzitutto risponde all'obbligo di l'Istat. È obbligo. È obbligo in tutte le regioni, come solamente con tutto il fatto, viene da una linea completa, eccetera. perché il nostro sistema è stato presenziato a vista e l'Istat ha avuto un lavoro in provazione. Quindi, comunque, è conforme ai desiderati, diciamo, dell'Istat. Dopodiché, e questo è un obbligo, dopodiché abbiamo una regione, ha detto, vabbè, ma i dati, io non voglio semplicemente rispondere all'Istat e basta. Voglio far sì che questi dati vi siano utili. Allora, che punto l'Istat, per essere trasparente al massimo, riceve dati e pensieri e richiede solo arrivi e presenze e sugli arrivi solo la provenienza. Qualsi sono i dati o più i dati per l'Istat. Onestamente, questi dati non sono sufficienti per fare una buona prolungazione territoriale, per il marchio, per la produzione, eccetera. E allora, la regione ha detto, noi dobbiamo però conoscere un po' meglio il turista che viene, a meno a sapere la fascia d'età. La regione, la provenienza, potrebbe non essere sufficiente, quindi avviene individuare le aree più specifiche. E poi, non ci basta la donessia, perché in un mese dove abbiamo i vari conti, l'Immacolata, Natale, Dicello, ok, in Dato Centro, come è il partito tra l'Immacolata e Natale? Quanto pesano i weekend, eccetera. Quindi, avere la distribuzione dei russi nell'altro mondo del mese, era anche molto importante. E poi, era necessario volere la carta a questo modulo nazionale. Quindi, tutta questa serie di obbligi, da parte della regione, sono diventati in quei modi fondamentali, principali e requisiti. Quindi, ciò che dovevamo. Quindi, abbiamo trovato la soluzione per rispondere a queste richieste. e quindi, la soluzione è stata, serve un sistema che rilievi giornalmente di tutti. Che chieda informazioni in più. Il sesso, la fascia d'età, la provincia di residenza, sia un singolo, una famiglia, un gruppo, eccetera. Cosa è il bello? Questo ci serve. Cosa è il bello anche avere? Ma perché? Tutto in vista, si è in Puglia? Come si è venuto? Come mi è notato? C'è tutta una serie di informazioni in più. E quindi, questa è la soluzione. Dopodiché, perché trovo una soluzione alle regioni, ok? Per il sistema per la regione, gli operatori che fanno? Non trasmettono solo le comunicazioni multidirezionali, no? Dobbiamo anche trovare qualcosa per restituire il favore agli operatori. e quindi abbiamo pensato anche che la soluzione dovesse prevedere anche delle funzionalità che potessero essere utili per gli operatori. E quindi l'analisi di regioni, invece, da tutte quelle cose che in genere sparano, che gli operatori più agganti coprano dei software particolari, chiedono delle consulenze e quindi ottengono queste informazioni. Noi invece abbiamo messo queste funzioni dentro questo sistema sport. Quindi, chiunque le vuole utilizzare, gratuitamente. e quindi, chiunque le vuole utilizzare. E quindi, chiunque le vuole utilizzare. E quindi, chiunque le vuole utilizzare.